Torna questo interessante appuntamento di Letto Manoppello per la valorizzazione della pietra della Maiella, un appuntamento a cui l'amministrazione comunale tiene in maniera particolare. Tiene in maniera particolare, ormai sono tre anni che abbiamo ridato luce a questa manifestazione, quest'anno abbiamo Ugo della Porta, un grande artista contemporaneo, grazie soprattutto al contributo del professor Giacinto Di Pietrantonio, noto, critico d'arte, nonché ex direttore della Brega di Bergamo. Insomma, abbiamo ridato questa luce perché Letto Manoppello merita questa manifestazione, merita perché è, sappiamo benissimo, nominata come città della pietra con legge regionale. Insomma, tante novità, dieci giorni intensi per tutta la cittadinanza, verranno costruiti ancora altri pietrales che poi verranno messi sulle pareti delle case del centro storico e poi a seguire verrà costruito proprio un percorso turistico dove tanti operatori turistici già si stanno interessando su questa nuova visione dei murales, che poi li chiamiamo pietrales, perché sono proprio delle opere messe sulle mure delle case. Sindaco, questi eventi hanno anche un altro obiettivo, quello di valorizzare, di far conoscere ancora di più le aree interne della nostra regione, spesso penalizzate? Certo, sì, questo tipo di attività vanno a valorizzare quello che è proprio l'identità delle comunità. In questo caso Letto Manoppello viene identificato come città della pietra e quindi si viene proprio a valorizzare questa identità in questa manifestazione che prende tutta la parte conoscitiva e quindi del territorio stesso.